Era l'inizio della mia carriera, quindi nel 54 ho un deputato in Italia e nel 56 mi trovavo in America. Avevo fatto un'audizione con il maestro De Sabat alla Scala che mi aveva chiamato per sentirmi e pensava di inserirmi nella stagione 56-57 con l'Aida di Verdi, che io felicissima andai in America, era il mio primo tour americano, andrei a San Francisco a cantare tranquillamente la mia Francesca Darini pensando che dovevo deputare la Scala con l'Aida. Invece a San Mallorca e Sabat cambiarono tante cose e improvvisamente mi senti arrivare, vedi arrivare un telegramma a San Francisco verso la fine della stagione, verso la fine di settembre e ottobre, che la Scala non mi offriva più l'Aida ma mi offriva le dialoghe carnerie. Per me è assolutamente sconosciuto. Di Pulek avevo sentito vagamente parlare, ero anche giovanissima, però siccome non amavo la musica del Novecento, in un primo momento pensai di rifiutare questa cosa. Il sovrintendente del teatro di San Francisco, Kurt Adler, mi disse ma guarda che questa è una prima mondiale, è una cosa importantissima, è per il tuo debutto, è per la tua carriera e mi parlo a lungo, finalmente mi persuasi e dissi di sì. Sennò che mi trovai a fare le prove con Margherita Warman che allora era la regista dell'opera, bravissima, a suo tempo per le cose che faceva, bravissima. Ma dopo un periodo di prove, di dialoghi, dove era sempre presente anche Francis Pulek, io mi sentì chiamare un giorno dal segretario generale, allora, Luigi Oldani, che mi disse guarda che il compositore e la regista trovano che tu non sei adatta alla parte, allora se tu potresti anche rinunciare. Perciò ragazzi che ci siete tutti non dovete mai scoraggiarvi quando ci sono le difficoltà. Beh, mi ha preso un colpo, eh? Allora, insomma, non dissi niente, andai a casa, mi mesi a piangere, però non sapevo cosa rispondere perché io di tutti questi inghippi in teatro non sapevo come dovevo procedere. Allora telefonai a un mio amico, al mio amico carissimo a loro, a Kurt Adler, a San Francisco, ho il telefono facile, devo dire. E allora telefonai a San Francisco, lo trova e disse, io devo rinunciare a questo. Lui mi ha detto, ma lei è anche per sogno, lei ha un contratto, loro devono rispettare il contratto, le dimostrano perché non è adatta. E mi ha detto, chi telefoni a Francis Pulek, il quale Francis Pulek mi aveva sentito la sera prima in un concerto Martini e Rossi, mi aveva accompagnato a casa con le lacrime agli occhi dicendomi che ero la sua interprete ideale e il giorno dopo aveva cambiato idea perché Margherita Wallman gli aveva fatto cambiare. Cosa sono le donne? Poi ho trovato anche un piccolo, questo l'ho scoperto proprio ieri, questo programmino e i programmini erano fatti così. Ecco, un mese di scala, dal 4 gennaio al 4 febbraio, dove è inclusa la prima dei Bianchi del Carmelitano. E dico il 4 gennaio per spiegare la perfiglia di Margherita Wallman. Perché io allora non sapevo nulla, non conoscevo nessuno. E quando arrivai, c'è c'era il 4 gennaio la prima della cecchina di Piccini con Gabriella, con Grazie Rosciutti, Luigi Alba, eccetera, Baddiodi, eccetera, che erano tutti ragazzi dell'Accademia, tanto per parlare dell'Accademia della Scala, con la regina di Zeffirelli. Ecco, si facevano alla piccola scala questi spettacoli insufficenteschi, meravigliosi. Ed erano molto importanti, era quasi così importante quanto una prima inaugurazione alla Scala Grande Scala. E quindi c'era il fiorfior della elite musicale e dei critici anche. E fui invitata da Valcarendi, che io non sapevo neanche chi fosse, che era proprio il padrone, diciamo, della Casa Ricordi in quel momento. Dopo anni ho capito che era quella la ragione per la quale la signora Wallman mi aveva protestato, perché la signora Wallman era l'amica di Valcarendi. Allora io telefonai a Oldan e mi disse no, io non rinuncio, dimostratemi perché. Telefonai a Francis Poulent, il quale imbarazzatissimo, accettò di vedermi, si mise al piano forte, mi messa la parte, cantò. Vabbè, non era niente cambiato, solo che la Wallman mi faceva fare una regia sbagliata. Perché la Wallman si era spiegata così, che io ero arrivata dalla Turchia, beh, era una ragazza di buona famiglia, quindi aveva anche delle maniere educate, diciamo, un po' aristocratiche. Allora invece la mia parte richiedeva la parte di una popolana, di una boulogère, ma bastava dirmelo, no? E allora lei aveva detto che io mi aggiravo per il palcoscenico dalla Scala come una principessa orientale. Che maldicenza! nel frattempo morì Toscanini, ecco perché racconto questo. Morì Toscanini e prima della mia audizione allo staff dirigenziale, quel giorno lì io mi sentivo male anche, dal nervoso, anche credevo di non poter cantare bene. Nel momento che io dovevo aprire bocca è arrivato qualcuno, al maestro Sanzonio, tutto lo staff lì, e hanno detto è morto Toscanini, perciò annullata la prova. Quindi io ho pensato, mi protegge lo spirito di Toscanini, perché il 18 febbraio 57 mi scelse De Sabata per fare questo record per la celebrazione funebre di Toscanini al Duomo di Milano, è stato emozionantissimo. Tanti ricordo, mio Dio, ma tanti ricordo molto belli. E allora, questa messa poi provocò il mio continuare a cantare forse annattamente Verdi, per quel sì bemolle finale. pianissimo, che De Sabata mi teneva lungo, lungo, infinito. In quel Duomo lì, in quel Duomo, era venuta una cosa bellissima, tanto che mi dissero che, questo me lo raccontò dal maestro Gavazzini, presente alla Callas, che si girò a Gavazzini e mi disse, però... era una specie di diploma che mi dava, una specie di benedizione che mi dava la Callas. e vinsi la mia causa. Però Poulenc, come un uomo, mi diede questa prima delusione. Credo che in cuor mio non lo perdonai mai. L'episodio è passato e tutto è andato bene, è stato un libro. Io allora non avevo letto molto le critiche, ma adesso ho dei documenti e ho visto che le critiche non erano poi così entusiaste di questa opera, no? Non è che sia stata la liberazione, diciamo, di questo grande compositore. Invece il pubblico aveva gradito moltissimo. Forse non la critica, ma il pubblico sì. La critica non capisce mai. E io ebbi la soddisfazione di avere il mio primo grande applauso alla scala, a scena aperta, alla conclusione dell'opera, quando Merli Duan fa il suo discorso di commiato, di addio e si rivolge alle consorelle e le prepara al martirio. Sono delle pagine meravigliose. Ricordo che tutte le mie suore, le mie sedici suore intorno a me, anche alle prove, piangevano tutte le volte che io mi rivolgevo a loro in questo lunghissimo discorso che finisce con l'andare poi al patigolo. L'apprezzamento di Poulenc per i cantanti della scala è molto interessante, trovo. Sbarcando lunedì sera ho trovato al bifio una margherita esangue, sussurrante, e in breve un rifugiato che ha appena passato la frontiera ungherese. A tutte le mie domande un semplice gemito, è il suo stile. Ho una distribuzione sensazionale. Se le carmelitane fanno fiasco, ne sarò il solo responsabile. Prima priora Pedersini, fantastica. Seconda priora, questo lo volevo dire perché... Seconda priora Gengel, molto bella. Pare che fossi bella allora. Voce magnifica di tipo Tevaldi, Madre Maria glaciale a piacere, Costanza inaudita, Eugenia Ratti. Ieri ha pianto provando una scena del trasferimento della morte. Bianca Zeani, meravigliosa. Forse un po' borghese. Ma insomma, per dire, tutti questi suoi giudizi, detti in questo modo, così adulto, così, fine, così vero, era lui. È stato molto importante per me conoscerlo. Come del resto sono stati molto importanti in quel periodo tutte le persone che avevo conosciuto. anche, non solo attraverso lui, ma in questa Milano che allora era fervida, effervescente. Era una Milano particolarmente intensa, sia artisticamente che direi di tutti i personaggi che rappresentavano la Milano di allora. Era un periodo molto bello.